Salve a tutti! Oggi voglio costruire una schedina con un mezzo ponde montato sopra. In pratica in un laboratorio fa sempre comodo avere già un mezzo ponde montato su cui poter effettuare svariate prove, quindi quello che voglio fare è appunto andare a costruire un mezzo ponte prototipo dove sarà possibile eventualmente cambiare vari componenti per poter effettuare dei test su degli induttori, dei test sugli attivi, quindi potendo cambiare anche i MOSFET e poter effettuare anche dei test per quanto riguarda applicazioni nell'ambito della induzione. Quindi stiamo parlando di un prototipo su cui è possibile effettuare molte modifiche e che quindi deve risultare essere molto molto versatile. Per poter effettuare tutti i test che ho appena elencato diciamo che lo schema logico di questa scheda sarà il seguente ovvero abbiamo il mezzo ponde con i due attivi controllati che si possono sostituire quindi sono generici e poi un ramo costituito da LCR che servirà appunto per effettuare questi due test quindi quello sugli induttori e quello in ambito di induzione. Infatti sarà possibile modificare il componente L per poter di volta in volta appunto andare ad effettuare questi test. La C quindi i condensatori saranno fissi sulla scheda e anche la R quindi la resistenza di resistenza che è presente e serve per tenere sotto controllo le correnti che circolano su questa maglia LC. Infine il driver che ho scelto per costruire questo mezzo ponde sarà l'IR2184 che noi abbiamo già studiato nei video precedenti del canale e che risulta essere il driver più adatto per questa applicazione in quando sarà semplicemente comandato da una sola PWM e sarà possibile raggiungere frequenze sul mezzo ponte fino a 300 KHz. Inoltre grazie alla sua elevata corrente di driving sarà in grado di pilotare sia MOSFET di segnale e sia MOSFET di alta potenza quindi con elevata capacità di gate. Adesso vediamo lo schematico che ho pensato di realizzare. Ecco qui lo schematico abbiamo in ingresso la tensione di alimentazione che potrà arrivare al massimo fino a 30 volt e poi subito un filtro LC di fondamentale importanza in quando sul mezzo ponte verranno raggiunte alte frequenze di switching e alti valori di corrente. Quindi questo filtro serve che questi disturbi di condotte non ritornino indietro all'alimentatore e che quindi possano creare fenomeni di instabilità. Successivamente troviamo lo stato di LDO che andrà a generare la tensione ausiliaria fissa a 12 volt per lo stato di driving che non è presente qui nello schematico ma che viene simbolicamente rappresentato con questi due generatori di tensione messi in modalità di impulso. Mentre infine troviamo appunto lo stadio di mezzo ponte quindi lo stadio di potenza. Possiamo vedere i due attivi che in questo caso sono degli RF 510, l'induttore collegato con tre condensatori messi in parallelo e la resistenza di shunt collegata fra questi tre condensatori e il ground del circuito. La cosa particolare da notare è che ho messo tre condensatori in parallelo con tre valori di capacità diverse. Inoltre saranno anche di tecnologia diverse ovvero questo sarà un polimerico mentre questi altri due sono degli elettrolitici. Questa è una scelta pratica di fondamentale importanza in quanto a causa delle elevate correnti che circolano su questo nodo e delle elevate frequenze questa scelta consente di avvicinarsi il più possibile alla situazione ideale. Infatti se si mettesse solo un condensatore elettrolitico quello che succederebbe è che si surriscalderebbe troppo e c'è il rischio che possa rompersi o comunque non funzionare come un condensatore ideale. Andiamo adesso a vedere come sarà lo sbroglio del circuito sulla schedina millefori. Ecco qui come verrà il circuito quindi qui abbiamo l'ingresso seguito subito da un fusibile di 5A dopodiché troviamo lo stadio LC quindi questa è la L e questa è la C del filtro questo è l'LDO che va a generare la 12V per il driver di controllo mentre qui troviamo gli attivi del mezzo ponte. Come si può vedere qui bisogna prestare davvero molta attenzione al layout in quanto non bisogna creare particolari loop di corrente su scheda che andrebbero a creare soltanto dei disturbi quindi in parallelo al drain del MOS alto e al source del MOS basso sono andato a inserire altri due condensatori uno elettrolitico e uno polimerico di alto valore di capacità. Infine troviamo qui il connettore per inserire l'induttore che di volta in volta si andrà a provare dopodiché ci sarà il blocco delle tre capacità vista in precedenza e infine lo shunt di corrente dove andremo appunto a misurare la corrente che sta circolando in questa maglia. Molto bene quindi adesso quello che mi rimane da fare è andare a saldare il circuito sulla PCB e poi nel prossimo video vedremo la realizzazione completata dello schedino e poi andremo anche a fare qualche test per verificare che funziona correttamente e che quindi anche magari andando a effettuare delle prove sugli induttori. Molto bene per adesso quindi è tutto. Alla prossima!